Lo smart working è green, consente infatti di evitare l'emissione di circa 600 kg di anidride carbonica all'anno per lavoratore, meno 40%. Notevoli poi i risparmi in termini di tempo, circa 150 ore, distanza percorsa, 3.500 km e carburante, 260 litri di benzina o 237 litri di gasolio. Tutti dati evidenziati da uno studio pubblicato sulla rivista Applied Science. Ci sono voluti 15 anni di negoziati e alla fine, il 4 marzo scorso, i paesi dell'ONU hanno raggiunto un'intesa per l'adozione di un trattato per la protezione dell'alto mare e degli oceani. Si tratta di un accordo scudo contro le tante minacce alla salvaguardia di ecosistemi vitali per la biodiversità. Siamo ormai a marzo inoltrato e l'Italia si accinge ad uscire da quello che passerà alla storia come il suo inverno più caldo di sempre. Una stagione dunque sulla quale il riscaldamento globale ha prodotto un aumento della temperatura notevole. Rispetto alla media degli ultimi 30 anni, 1991-2020, i mesi da dicembre 2022 a febbraio 2023 hanno segnato più 1,21 gradi centigradi. L'effetto descritto continua a farsi sentire sempre di più nelle regioni del nord, proseguendo una tendenza che ha caratterizzato tutto lo scorso anno. Lo riportano i dati lavorati da Michele Brunetti dell'ISAC-CNR. Giovani giornalisti ambientali crescono, grazie anche al CONAI. Torna infatti, dopo il successo della scorsa edizione e le premiazioni svoltesi ad Ecomondo, il bando Fenice-CONAI che premia chi, tra i 18 e i 40 anni, produce informazione green. Il bando si divide in due categorie, scritto, carta e web ed audiovisivo, radio e tv. Centrale il tema dell'economia circolare è il riciclo con una pubblicazione che deve essere stata realizzata su una qualsiasi testata o trasmessa in radio e tv nel periodo compreso tra il 22 aprile 2022 e il 21 aprile 2023. Ciascun giornalista potrà inoltre candidare più di un articolo o servizio senza però presentarlo più di una volta. Microfono, computer o calamaio che sia, l'ambiente è sempre più protagonista del mondo dell'informazione, specie tra le giovani generazioni.